salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo ragazzi è solo un piccolissimo video per spiegarvi un mini gioco che ho pensato per potervi far vincere questo mini drone della global drone praticamente la versione tarocca del mavic mini però un dronino che è davvero divertente vola bene ovviamente non c'entra niente con questi due droni ma è un drone che comunque vola davvero davvero bene quindi ragazzi il giochino che ho pensato qual è allora qualche giorno fa ho portato a volare sul lago questi due droni il mavic mini e il mavic air 2 quindi ho fatto un volo doppio ho fatto delle riprese sul lago location sempre bella e suggestiva quella del lago di come sul ramo di lecco e cosa ho fatto ho fatto volare entrambi e entrambi sono stati impostati a 2,7k nel senso che il mavic mini e la sua risoluzione massima 2,7k a 30 fps il mavic air 2 l'ho impostato a 2,7k a 30 fps quindi hanno avuto la stessa risoluzione e hanno registrato appunto con la stessa risoluzione quindi questo video sul lago è un video di base per fare un confronto del 2,7k di questi due droni perché il mavic mini sia una fotocamera piccola molto più minimale rispetto a quella del mavic air 2 ma in realtà dal punto di vista della qualità delle immagini ce li impostiamo tutte e due con la stessa risoluzione non c'è poi tutta questa grande differenza e da qua mi è venuta questa idea allora il video che andrete a vedere tra un paio di giorni quindi quando vedrete il video mavic mini contro mavic air 2 questo video cosa avrà avrà all'interno diciamo dell'editing video tante clip ovviamente alcune di queste clip avranno un numerino in basso a sinistra quindi una clip avrà il numero 1 un'altra clip avrà il numero 2 e vi dicendo quindi i numeri totali sono 10 ovviamente le clip sono molte di più però solo 10 clip avranno un numerino identificativo quindi in cosa consiste il giochino che ho pensato visto che questi due droni sono i droni del momento e tanti sono curiosi di vedere come si comportano che differenza c'è dal punto di vista video da uno all'altro e via dicendo quindi la mia mente malatta cosa ha pensato di mettere in paglio questo mini drone della global drone e per vincere cosa dovete fare dovete inviarmi sul mio profilo instagram che poi vi lascio qua sotto in descrizione ma trovate anche in alto nel banner il link al mio profilo instagram comunque ve lo lascio anche qua sotto in descrizione se mi inviate l'ordine con cui sono state fatte le clip cioè per esempio mavic air ha fatto secondo voi la clip 1 la clip 3 la clip 5 la clip 7 per esempio mavic air 2 ha fatto la clip 2 la clip 4 e via dicendo quindi mi scrivete questo su un messaggio nel mio profilo instagram il primo che invierà l'ordine esatto gli invierò a casa il mini drone della global drone quindi ragazzi mi sembra un gioco carino davvero semplice dovete solo mandare il mavic air e il numero della clip che sono state fatte con con questo drone e mavic mini il numero delle clip fatte con questo drone e vi assicuro che non sarà semplice perché con il mavic air 2 impostato 2,7k il mavic mini non ha per niente per niente sfigurato in più ci saranno i riflessi dell'acqua è una location suggestiva perché il lago di como sempre bellissimo e quindi ragazzi ho pensato a questo giochino quindi vi aspetto numerosi scrivetemi l'ordine che avete pensato quello che secondo voi è quello giusto e il primo che ci beccherà si porterà a casa il mini drone della global drone quindi ragazzi questo era solo un video semplice per mettervi al corrente di questo quindi state attenti fra un paio di giorni vedrete il video mavic mini us mavic air 2 e a quel punto sapete che quello è il video per giocare al minigioco quindi ragazzi questo era solo un video per mettervi al corrente di questo minigioco ci vediamo ovviamente nei prossimi video ciao ciao ciao